Vescovi per la pace è il titolo che apre il cittadino di questa settimana in prima pagina con l'attenzione all'Assemblea Generale della CEI in Vaticano, preghiera in San Pietro e dialogo con Francesco nel resoconto all'interno. Vita diocesana Don Giacomo Dotta Sacerdote, una pagina dedicata all'ordinazione presbiterale avvenuta in cattedrale domenica 19 maggio nella solennità di Pentecoste. Convocati per evangelizzare il messaggio del vicario episcopale Don Gianni Grondona e la Locandina nelle pagine centrali per invitare all'evento cittadino di sabato 8 giugno al Porto Antico, che conclude questo terzo anno di cammino sinodale. Verso il pellegrinaggio diocesano a Lourdes il prossimo 28 giugno, l'invito dell'arcivescovo in prima pagina a partecipare e due pagine con il contributo di unità al Sioft al pastorale giovanile e pastorale della salute coinvolte nel pellegrinaggio. 8 per mille nella nostra diocesi, il rendiconto annuale della ripartizione e l'intervista all'economo diocesano Don Andrea Parodi. Come sempre, spazio agli approfondimenti, allo sport, alla cultura. Tutte le altre notizie all'interno